La rubrica in esercizio cura la redazione degli scritti di studio. Sono scritti che hanno un duplice scopo, accertare la comprensione di ciò che si legge e costituire l'archivio informativo personale. Questa rubrica in esercizio insegna anche a usare i testi esaminati come modelli di scrittura. Grazie per la visione!